ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono il lanciere e ritorniamo con un nuovo video ragazzi raccolta uscita da pochissimo novità tops stagione 2022 2023 sono arrivate le carte della collezione superstars è una collezione veramente fantastica tantissime carte bellissime i campioni di tutta europa della champions league europa league europa conference league ragazzi questa veramente è una raccolta che fa concorrenza alle carte score prima di partire con l'unboxing di questi sei pacchetti vi presenterò la raccolta ma prima di tutto ragazzi come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video novità che andrò pubblicare sul canale soprattutto schiacciate un bel like a questo video detto questo sono 200 le carte base da andare a trovare delle squadre di tutta europa dei migliori campioni queste 200 carte possono essere trovate anche nella versione in movimento ed esistono ben 16 tipologie di parallele queste 16 tipologie di parallele si possono trovare a seconda dei box che si acquistano nei box da 24 pacchetti negli hangar box o nei value box alcune di queste carte parallele sono esclusive di alcuni di questi box poi oltre a queste carte della versione base ci sono le carte inserti le più ricercate è la ucl champions della caters del real madrid si trova una ogni 288 pacchetti e poi ci sono quattro carte royalties oltre alle elite le carte elite sono 16 insomma ci sono circa 25 autografi tra le 10 quelle con la versione monaco 93 insomma carte veramente molto interessanti ma direi di non perdere altro tempo e andiamoci a spacchettare il primo dei sei pacchetti così vediamo anche un po le possibilità di trovare carte base e le parallele così andiamo a vedere un po le percentuali allora partiamo con fosse maria chimenez dell'atletico abbiamo zobosly poi due carte base quindi poi abbiamo in movimento jude bellingham questa è una carta comune quindi sono quelle che si trovano un po più semplicemente non comune una carta non comune ed è camalinga abbiamo già li verratti quindi non è una carta numerata però è una carta non comune poi continuiamo con le carte comuni carvaglio abbiamo di ab e poi a terminare altre due carte base ben yader e courtois devo dire che queste carte sono veramente molto belle ben fatte vediamo il retro ci sono un po di informazione sulla posizione nazionalità la data in nascita e il palmarès quindi non sono carte diciamo da gioco sono carte da collezione con un po di dati dei calciatori ovviamente la cosa bella rispetto alle carte score è che queste sono non soltanto relative a un singolo campionato ma a tutta europa quindi la possibilità di trovare campioni guardate qui queste base ma è modric è elevatissima quindi molto molto interessante sadio mané neymar c'è ragazzi abbiamo trovato carte di questo livello neymar comune questa è una carta in movimento zobos line non comune poi abbiamo sangare ancora gialla marcus rashford torniamo alle carte base sono teo hernandez e gabriel jesus allora continuiamo per ora ci siamo fermati alle non comuni continuiamo e abbiamo maison mount ed eccola qui è una carta royalty e lucas modric eccola qui questa è una gran bella carta la sua rarità è di una ogni 24 48 pacchetti questa è la versione base perché anche queste si trovano in versione parallela questa è una delle quattro royalty che si possono trovare molto ma molto bella andiamo avanti e torniamo alle nostre carte gialle suameni poi non comune di slottenberg ottavio ancora gialla ficcaio tomori poi sucic e ad aiemi per il borussia andiamo avanti e continuiamo con il quarto pacchetto dei sei che abbiamo a disposizione abbiamo marcus edwards riz james rahum attenzione carta rara e lautaro martinez vediamo ovviamente le rare non sono numerate ma questa è una gran bella carta poi abbiamo kai averts embolo brill embolo garnaccio e benissus junior due pacchetti per terminare il nostro video andiamo a vedere chi troviamo alexander arnold base goncalves base fofanà comune in movimento abbiamo altra carta rara e ancora campionato italiano e alessio romagnoli questa è sempre una carta non numerata non numerata culuzeschi torniamo alle carte comuni e poi fekir e shoamenii per il real a terminare il quinto pacchetto ultimo pacchetto a disposizione ragazzi ma quante carte di campione abbiamo trovato veramente molto interessante la raccolta bastoni culuzeschi stavolta in versione base eccola qui una elite focus di kevin de bruin queste ne sono 16 da trovare questa dovrebbe essere una versione base non numerata elite focus portiamo a casa anche una elite focus otavio in movimento joao felix comune bergwin abbiamo camara e leo messi in versione base ma altra grande carta abbiamo aperto sei pacchetti ragazzi il nostro bottino è di una bella carta elite focus e una carta di queste royalties di modric di queste carte ne esistono quattro la rarità è una ogni 24 pacchetti quindi in un box standard ne esce in media una e sono quelle di modric lewandowski messi e benzema non c'è uscita nessuna delle carte final boss anche se sono più comuni di queste royalties ne sono una ogni 12 pacchetti e poi abbiamo tantissime carte base comuni non comuni le migliori sicuramente dopo gli inserti sono le parallele rare di lautaro martinez e alessio romagnoli termina qua questo video ragazzi ma prima di salutarvi io vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto attivare la campanella e soprattutto lasciate un bel like a questo video detto questo fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa raccolta il mio giudizio è molto positivo raccolta fantastica forse anche meglio delle score non per la qualità delle carte perché secondo me le carte score sono di una qualità altissima però la qualità dei calciatori che si possono trovare in questi pacchetti è altrettanto buona comunque termina qua questo video ed io con la collezione superstars 2022 2023 di tops vi saluto da lancire è tutto ci vediamo al prossimo video ciao